Siamo per il quarto gruppo dalla Slovacchia la signora Gabriela Rydarcikova. Curzar, Weimar Runner, Bracco italiano, Setter Gordon, Setter irlandese, Dratar, Bracco francese tipo Pirenei, Visla, Spinoni italiano e Pagnel Breton. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora siccome per il podio è veramente ostionante, per il benessere dei nostri cari amici ci si mette davanti. Grazie a tutti. Allora ci siamo al terzo posto abbiamo il Setter irlandese. Mettiamoci come detto davanti al podio al secondo posto, Setter Gordon vince Weimar Runner. Allora. 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 Grazie a tutti.